eccoci bentrovati buongiorno buongiorno a tutti siamo qui per questo questo webinar il primo webinar dedicato agli agli studenti all'interno del progetto partecipac e anche agrinnovation ed oggi parleremo in particolare di sostenibilità e di impronta ecologica un po di presentazioni diciamo mentre si continuano a collegare alcuni delle persone che si erano registrate per questa mattina partiamo da alcune note tecniche so che molti di voi ci stanno seguendo dall'aula quindi tutti insieme collegati dall'aula durante il webinar ci sarà sono alcuni momenti in cui vi farò alcune alcune domande quindi dovrete rispondere quindi chi diciamo gestisce il web nel professore in questo caso risponderà però insomma diciamo raccogliete un po la domanda le risposte da tutta la classe semplicemente si tratterà di rispondere a alcune domande risposta multipla quindi niente di particolarmente complicato quindi non dovrete intervenire parlare eccetera eccetera se ci sono domande durante lo svolgimento del webinar che nascono dagli studenti se ci sono domande di chiarimento di quello che di cui parleremo c'è all'interno del vostro pannello di controllo una sezione domande in cui potete in ogni momento scrivere scrivere appunto quelli che sono le vostre richieste dedicheremo una parte diciamo finale verso gli ultimi dieci minuti diciamo di questo di questo webinar per guardare appunto queste domande se ci sono alcune cose a cui dare una risposta nell'immediato qui durante il webinar oppure eventualmente se ci sono richieste di approfondimento che possiamo trattare in separata sede eventualmente via mail o comunque ci possiamo sentire vi ricordo questo è il primo webinar di una serie di tre i prossimi saranno a febbraio ed aprile e andremo approfondire altre tematiche in particolare a febbraio parleremo un po di quella che è l'evoluzione del settore dell'agricoltura agricoltura 4.0 sempre appunto alla ricerca di questa sostenibilità di cui oggi iniziamo a trattare nell'ultimo incontro nell'ultimo webinar che invece si terrà ad aprile parleremo un pochino più nello specifico della politica agricola comune quindi della PAC in particolare cercando di vedere un po quali sono le diciamo le prospettive le opportunità che questa riserva per per i giovani quindi anche per eventualmente gli studenti che oggi sono in classe ma un domani si troveranno probabilmente sui campi o comunque protagonisti del nostro settore dell'agricoltura in senso lato oggi non parleremo solo di agricoltura anzi parleremo poco di agricoltura perché parleremo più in generale appunto di impronta ecologica e vedremo un po che cosa si intende questo webinar appunto come vi dicevo è all'interno del progetto partecipac che è finanziato dalla commissione europea ma diciamo unisce anche l'altro nostro progetto dedicato al mondo delle scuole che è agro innovation edu con il quale cerchiamo appunto di avvicinare le scuole di indirizzo agrario in questo caso all'utilizzo in particolare delle nuove tecnologie in agricoltura quindi nel caso qualcuno di voi volesse poi approfondire questo questo tema mi può contattare anche qui in separata sede i miei riferimenti se li avete anche nelle mail di iscrizione a questo webinar io sono gabriele mongardi lavoro appunto per all'interno di image line come education manager diciamo in questo in questa sede e mi occupo appunto di tutte queste attività di di formazione mentre appunto vedo che si stanno ancora collegando alcuni dei dei registrati vi ricordo che alla fine diciamo del webinar quando terminerà il webinar vi comparirà un breve sondaggio a cui vi chiedo di rispondere sia per dirci se il webinar vi è piaciuto ma anche per indicarci in particolar modo per chi è collegato con tutta la classe quanti studenti sono collegati in modo da poter avere un numero complessivo di quanti studenti abbiamo raggiunto che ci ci serve diciamo per rendicontare ecco diciamo questa attività anche alla commissione europea bene a questo punto io direi di iniziare iniziamo quindi cerchiamo di essere anche puntuali negli orari e anche nel nel termine di questo di questo webinar oggi appunto come vi dicevo parleremo di sostenibilità e di ambiente e soprattutto punto di quella che è la nostra la nostra impronta su questo ambiente noi diciamo questo segno che lasciamo nel nel nostro sul nostro sul nostro pianeta dipende un po dal dal modo in cui noi decidiamo di attraversare quindi possiamo scegliere di attraversare l'impunto di piedi con calma guardando quello che ci sta intorno quello che ci circonda oppure possiamo attraversarlo in maniera un po inconsapevole ecco diciamo in questo caso ovviamente c'è il rischio di calpestare qualcosa e di lasciare un'impronta magari più profonda di quella che sarebbe necessaria e quindi anche in un certo senso rovinare i luoghi in cui attraversiamo quindi qual è il primo passo appunto parlando di impronte il primo passo da fare è semplicemente quello di imparare a osservare osservare quello che ci sta intorno capire in che contesto ci muoviamo qual è l'ambiente che si circonda come si è creato in che modo noi ne siamo parte e già questo ci aiuta ad avere un'attenzione maggiore nell'impronta che lasciamo il primo passo da fare appunto come abbiamo detto è osservare per osservare generalmente bisogna per quanto riguarda appunto l'approccio che scegliamo di adottare che è quello tendenzialmente scientifico bisogna un attimo guardare i dati oggi osserveremo alcuni dati non tutti quelli che sarebbero necessari per avere un approfondimento generale però diciamo che possono esserci alcuni spunti che poi potrete anche approfondire magari in classe primo caso prima cosa che guardiamo sappiamo che uno dei problemi principali che ci troviamo ad affrontare è quello della crescita della temperatura del pianeta ovviamente si tratta di una media mondiale quindi non dobbiamo in questo anche in questo ambito qui fare l'errore di considerare dei degli episodi specifici dei giorni dei dei luoghi ma considerare appunto quella che è la media mondiale che appunto ha uno sguardo un po più ampio come vediamo nell'ultimi 150 140 150 anni la temperatura media globale è cresciuta di circa già un grado perché appunto ci potremmo chiedere a questo punto da che cosa è dato questa cosa è data questa crescita della temperatura noi sappiamo che la terra ha la sua temperatura perché c'è una stella che la che la riscalda che è il sole quindi potremmo essere indotti a pensare che è sicuramente è importante quella che è l'attività solare quindi quanta energia il sole manda sulla terra o meglio quanta energia emessa dal sole raggiunge la terra è sicuramente un fattore importante però vedendo un po analizzando i dati e comparando quello che è il trend del delle radiazioni solare con la temperatura notiamo che a un certo punto c'è uno scollamento di queste due linee di questi due tendente che fino a quel momento lì più o meno erano state diciamo omogeneo comunque seguivano un andamento simile vediamo che più o meno nella seconda metà del 1900 queste due linee iniziano a separarsi quindi evidentemente c'è un fattore che va a creare un disturbo di quello che era l'equilibrio diciamo precedente e a divergere queste due linee mentre appunto la l'attività solare diciamo così l'irradiazione solare totale negli ultimi 40 anni è tendenzialmente calata la temperatura non ha seguito questo trend anzi è cresciuta ulteriormente quindi probabilmente c'è un'altra causa che ha generato questo 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 trend l'altra cosa che potremmo guardare è appunto considerando la temperatura che sta salendo quali sono gli effetti di questa temperatura iniziamo il primo effetto diciamo un po più evidente è l'andamento dei ghiacciai ecco consideriamo allora quello che è il trend del dei dei ghiacci io vi faccio vedere a questo punto un video in cui vediamo quello che è l'andamento dei dei ghiacci in particolare del polo nord negli ultimi più o meno 50 anni ecco vediamo appunto quella che è l'area che vedete questi sono dati che vengono dalla nasa quindi dalle osservazioni satellitari della nasa e vedete come in particolare negli ultimi 20 anni adesso vedremo appunto dal 2000 in poi c'è stata una fortissima riduzione di quella che è l'area della calotta polare con alcuni minimi storici intorno al 2013 2012 2013 e per arrivare anche al 2020 con anche qui un altro picco diciamo in negativo che ha appunto portato a una minimo storico diciamo così ecco quindi questo questa crescita di temperatura si riflette in primo luogo in particolare modo anche su quella che è l'estensione l'estensione dei ghiacci ovviamente se i ghiacciai si sciolgono oltre al normale in oltre all'innalzamento dei livelli del mare che è il primo effetto che ci viene in mente c'è anche tutto un effetto di diciamo di omeostasi della temperatura terrestre perché appunto la calotta polare una zona molto fredda fa anche da volano termico quindi raffredda in un certo senso l'atmosfera se questa viene a diminuire diciamo che ecco probabilmente l'innalzamento della temperatura sarà ancora più rapido più veloce quindi stavamo cercando quelle che sono le cause ora diciamo è abbastanza riconosciuto a livello internazionale che la una delle cause principali è il cambiamento di quella che è la composizione dell'atmosfera in particolar modo l'inalzamento la crescita dei livelli della di anidride carbonica l'anidride carbonica viene in questo caso utilizzato un po' come punto di riferimento come elemento come gas di riferimento per quanto riguarda anche la misura del dell'inquinamento se noi guardiamo quello che è il trend della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera nell'ultimo milione di anni sostanzialmente notiamo che al di là dei normali flussi e picchi che si possono essere dovuti a eruzioni vulcaniche attività biotiche eccetera eccetera nel a partire dal 1950 in poi c'è stato un innalzamento estremamente importante di quelli che sono i livelli di concentrazione dell'anidride carbonica che è passata da quelli che erano più o meno 300 320 parti per milione agli attuali 400 420 parti per milione ora sappiamo che il gas dell'anidride carbonica a è un gas con un potenziale di effetto serra cioè aumenta quello che è il normale effetto serra dell'atmosfera cioè la capacità dell'atmosfera di trattenere parte dell'energia che arriva appunto dalla radiazione solare che abbiamo visto prima e scaldare l'atmosfera questo è fondamentale altrimenti la terra senza l'atmosfera senza l'effetto serra non avrebbe le temperature che ha e probabilmente non ci permetterebbe la vita come la conosciamo il problema è che appunto un aumento eccessivo di questo di questo di questo gas e di altri gas a effetto serra portano ovviamente un innalzamento della temperatura questo innalzamento della temperatura ovviamente va a modificare l'equilibrio ecologico che si è creato negli ultimi negli ultimi millenni diciamo così è come vi dicevo universalmente riconosciuto ormai a livello mondiale che le prove del riscaldamento globale sono inequivocabili la comunità scientifica è su questo molto molto uniforme non ci sono particolari diciamo voci che si discostano da queste interpretazioni per quanto ogni tanto magari qualcosa salti fuori però anche qui dobbiamo considerare quelle che sono anche le pubblicazioni scientifiche e se andiamo a fare appunto uno studio di quelle quante sono le pubblicazioni scientifiche vediamo che la stragrande maggioranza oltre 90 per cento delle pubblicazioni scientifiche dicono sostanzialmente la stessa cosa e i scienziati che si occupano di queste di queste di queste tematiche sono concordi nel fatto che oltre al fatto che appunto c'è un innalzamento della temperatura media ci sono delle modifiche in quello che è il contesto climatico ecco le cause da ricercare sono in prevalenza sono comunque rilevanti quelle di origine antropica quindi in particolar modo per quanto riguarda appunto l'emissione di gas serra il cambiamento climatico come abbiamo visto crea problemi ovviamente un innalzamento della temperatura oltre a quello che abbiamo visto prima l'innalzamento dei mari crea anche un problema a livello di siccità qui vedremo un paio di immagini la prima è questa che stiamo vedendo in uno scenario con un ulteriore innalzamento di 0,5 gradi centigradi quelle che sono le le aree che avranno dei problemi annuali di siccità con le diverse vedrete nei colori diciamo che che compaiono per esempio in questo caso qui vediamo un po di un po di verde si tratta di una probabilità tra l'11 e il 33 per cento di avere annualmente dei problemi di siccità se invece ci spostiamo in uno scenario a un innalzamento di 3 gradi centigradi che non è così lontano dalle previsioni che che gli studiosi punto danno nel caso non sia applichino non si attuino delle misure di contenimento di questo riscaldamento ecco vediamo che il lo scenario cambia enormemente ci sono anche larghe parti anche d'europa per esempio la spagna molte parti anche dell'italia che andranno incontro a delle siccità molto prolungate e ricorrenti di anno in anno questo è un problema anche a livello di sostenibilità economica ne parleremo soprattutto la prossima volta la sostenibilità oggi parleremo in particolar modo di sostenibilità ambientale ma la sostenibilità a diciamo tre gambe su cui cammina la sostenibilità ambientale ma va considerata anche la sostenibilità economica di un sistema quindi se effettivamente quel sistema economico sta in piedi si legge in piedi ecco in questo caso vediamo come la sostenibilità ambientale influenza ovviamente sono sono aspetti collegati tra loro c'è anche un altro aspetto che la sostenibilità sociale questi aspetti ovviamente sono collegati tra loro qui vediamo per esempio dal 1980 al 2016 quali sono stati gli eventi meteorologici idrologici e climatologici estremi causati appunto dal dal cambiamento climatico che hanno portato diciamo delle degli eventi catastrofici quindi hanno portato anche dei danni alle oltre alle alle case alle persone ma anche in gran parte anche alle produzioni agricole per esempio come vediamo dal 1980 al 2016 si è passati da circa 220 a 700 quindi è triplicato il numero di eventi catastrofici nel mondo e questi ovviamente hanno un impatto anche a livello economico e come abbiamo visto prima anche sociale un'altra cosa da considerare a questo punto è appunto come vi dicevo prima la co2 quindi anche l'anidride carbonica è un po presa siamo abituati a considerarle come l'unità di misura diciamo così un po anche per quello che è la comunicazione quello che sentiamo in giro diciamo siamo un po portati a pensare che il problema principale diciamo del della sostenibilità ambientale comunque del del cambiamento climatico eccetera eccetera sia solamente un problema di atmosfera quindi quanto è inquinata l'atmosfera ecco consideriamo che questo è solo uno degli aspetti l'attività dell'uomo sul sull'ambiente si ripercuote non solamente sulla qualità dell'aria ma anche su tanti altri aspetti per esempio appunto il sovrasfruttamento di alcuni ecosistemi la riduzione anche della qualità non solo della quantità per esempio di acqua disponibile ma anche la qualità dell'acqua che è disponibile la qualità dei terreni che si va deteriorando in alcuni casi come anche la qualità degli ecosistemi cioè il livello di biodiversità ci sono molti casi in cui l'attività dell'uomo l'impatto dell'attività dell'uomo crea anche dei problemi a livello di perdita di biodiversità ora la biodiversità non andremo a approfondire qui il tema ma è un aspetto estremamente importante perché garantisce un equilibrio e soprattutto una capacità di in termini ecologici si chiama resilienza un termine che sentiamo molto però la capacità di un ecosistema di dato uno stress un evento catastrofico un'ampia variabilità un'ampia disponibilità anche di genetica diciamo di diversi geni disponibili all'interno delle popolazioni quindi una biodiversità non solo una differenza di quante specie sono presenti ma anche quanto sono diverse le specie all'interno della stessa specie quindi quanta variabilità genetica c'è all'interno della specie ecco queste sono tutte caratteristiche che permettono nel momento in cui c'è un evento uno stress esterno che si che viene diciamo che si inserisce all'interno di un ecosistema questa biodiversità permette all'ecosistema di ritrovare un suo equilibrio e non diciamo andare a deteriorarsi in maniera irrecuperabile nel tempo ora vedremo anche qui vi proietto un altro un altro video in cui vedremo un po come sono cambiate in particolare modo in che ecco che arriva in che modo l'impatto diciamo del dell'attività dell'uomo è ha influenzato in particolare anche questo è un video che si può trovare per inciso vi metteremo a disposizione le slide che utilizziamo ci sarà anche una slide con tutti i riferimenti bibliografici per andare a approfondire anche le tematiche ecco questi qui vedremo in questo video alcuni diciamo alcuni fatti dell'uomo in alcuni luoghi per esempio in Bolivia come vediamo dal 1984 al 2020 sono ampie aree che sono state in alcuni casi appunto convertite da foreste da ecosistemi non serviamo diciamo anche naturali e selvatici a ecosistemi coltivati e questo ovviamente il sistema diciamo agricolo è un sistema che è più o meno diverso rispetto alla foresta nella maggior parte dell'Italia qui siamo negli Stati Uniti e qui vediamo questi questi piccoli varchi che si aprono all'interno della foresta e noi sappiamo che appunto anche in questo caso qui in alcune parti del mondo il problema della deforestazione è ancora molto importante presente appunto nelle aree pubblicate qui siamo in Madagascara e qui vediamo come si è ridotta la copertura vegetale e in alcuni casi anche per problemi legati alla siccità oltre che alla pressione antropica in altre aree per esempio in Italia e in Europa in generale invece le foreste sono in espansione quindi cerchiamo di vedere anche quanto l'altro dispositivo se c'è quando ci vediamo le foreste qui continuiamo in Bolivia l'area pubblicate è molto successa invece a questo fenomeno appunto della deforestazione per far spazio in molti luoghi ad attività appunto antropiche come avete visto il dato che è passato si stima che la scatola è un'altra scatola ma lo scappolo è un'altra scatola a proseguire qui siamo in un po' grosso in Brasile diciamo che a colpo d'occhio è abbastanza impressionante ecco quello che è l'impatto dell'uomo su questi ecosistemi e appunto va considerato che le foreste assolvono ogni anno circa un terzo dei gas appunto effetto serra come per esempio l'anidride carbonica torniamo alla presentazione ecco quindi dobbiamo considerare appunto non solamente quello che è il nostro impatto diciamo di emissioni di anidride carbonica ma anche quello che è proprio il nostro impatto molte volte proprio molto materiale su quella che è la terra quindi introduciamo a questo punto un concetto particolare che è quello di impronta ecologica l'impronta ecologica diciamo è un indicatore che serve a misurare proprio anche in senso spaziale e materiale quanto è il terreno necessario per la vita sostanzialmente di ciascuno di noi quindi sostanzialmente quanto terreno serve per produrre quello che mangiamo quanto terreno serve per produrre quello che ci dà anche i beni materiali quindi necessari anche alla produzione degli oggetti e delle cose che utilizziamo quanto terreno è necessario per assorbire quella che è la nostra la indirete carbonica è emessa dalla nostra vita diciamo così e anche quanto terreno edificato andiamo a utilizzare quindi sostanzialmente diciamo andiamo a misurare quello che è lo spazio fisico necessario per rigenerare quelle che sono le risorse consumate dalla nostra attività per dirle in parole povere l'impronta ecologica ci dice sostanzialmente quanta terra utilizziamo proprio quanto quanto pianeta terra utilizziamo questa impronta poi va generalmente paragonata o comunque va sommata va confrontata con un altro concetto che è il concetto di biocapacità cioè appunto la capacità di un ecosistema di rinnovare le proprie risorse sommando questi due indicatori quindi la terra che ci è necessaria per le diciamo da cui prendiamo e invece la terra che è la sua capacità di rigenerarsi ovviamente facendo una somma di questi due indicatori riusciamo a capire se il nostro impatto è diciamo ha un bilancio positivo o negativo sull'ambiente volendo diciamo cercando di semplificare un po' in termini economici questo concetto immaginiamo che il nostro pianeta sia un conto corrente diciamo un capitale quindi così che si è accumulato nel corso dei millenni quindi noi a un certo punto è comparso il genere la specie Homo sapiens sulla terra e la terra aveva X sul suo conto corrente ecologico diciamo così ovviamente la terra l'ecosistema è in grado di diciamo far fruttare questo capitale quindi ogni anno rigenerare e creare nuovi diciamo nuove risorse ecologiche quindi in una situazione normale se togliamo appunto il nostro impatto ambientale diciamo che le risorse ecologiche di anno in anno crescono e appunto si accumulano andiamo quindi a questo punto a sottrarre quello che è il nostro i nostri prelievi diciamo quello che ci serve quello che utilizziamo quello che consumiamo come appunto di queste risorse ecologiche capite bene che se quello che io estraggo dal conto corrente è superiore a quello che diciamo il capitale crea di anno in anno con il proseguire del tempo se appunto questo è sbilanciato sugli outtake quindi sui prelievi il valore complessivo del nostro capitale si andrà a ridurre generalmente quindi quindi si andrà a contrarre di conseguenza se si riduce anche il capitale sono questioni economiche forse chi sta facendo anche un po' già di economia o di estimo forse ha affrontato questi temi però se si riduce il capitale ovviamente si riduce anche la fetta di interesse diciamo così quindi di quanto riesce a ricaricare di anno in anno il capitale stesso quindi diciamo che se è sistematicamente più alto il prelievo si andrà a ridurre appunto oltre all'ammontare totale di quelle che sono le risorse ecologiche del pianeta si andrà a ridurre anche la sua capacità di rigenerarle di anno in anno quindi con un circolo diciamo vizioso che andrà generalmente a impoverire a impoverire questo questo capitale qui è bene fare una una piccola precisazione sentiamo spesso parlare appunto anche in termini ambientali di salvare il pianeta ecco non è corretto dal mio punto di vista dire questa cosa qui perché il pianeta non ha bisogno di essere salvato quelle che si dobbiamo salvare siamo noi perché appunto noi stiamo parlando di tutto quello che abbiamo detto adesso da una prospettiva umana quindi noi stiamo guardando appunto anche l'ecosistema le risorse diciamo le risorse che sono utili a noi quindi quello che ci è utile a noi nel corso dell'evoluzione geologica diciamo della terra la terra ha attraversato periodi anche con stravolgimenti ben più ampi in cui la composizione atmosfera era completamente diversa insomma sappiamo che la terra ha passato molte fasi in questo momento però il problema è che noi stiamo modificando un equilibrio di un ecosistema tale per cui questo questo equilibrio si andrà poi dopo a se stare su un altro punto di equilibrio un altro ecosistema fatto in un modo diverso il problema è che siamo noi come specie come uomini a non essere probabilmente in grado di adattarci a questo nuovo equilibrio quindi quelli che rischiamo la terra andrà avanti tranquillamente si evolverà e non avrà problemi cambieranno probabilmente le composizioni la vita sulla terra cambierà ci saranno nuove specie meno specie che evolveranno poi dopo successivamente però il problema è noi ci saremo oppure no questo è il problema vero diciamo come specie se vogliamo affrontare appunto anche in questo caso qui il problema da un punto di vista appunto umano poi ci sono tanti altri punti di vista anche sull'ecologia se qualcuno di voi è interessato ci sono molti studi anche dal punto di vista antropologico che si possono approfondire in questo senso qui ecco quindi diciamo che tutto questo per ribadire questo concetto che noi stiamo andando a utilizzare e a ridurre le risorse disponibili per noi di fatto quindi quelle che sono le risorse che servono a noi quando queste risorse queste ecologiche saranno terminate o comunque saranno scarse saremo noi a pagarne le conseguenze non la terra ok questo era importante metterlo metterlo in chiaro a questo punto appunto come vi dicevo appunto il capitale la terra si ridurrà di disponibilità ecco diciamo così ma quindi nello specifico noi quanta terra stiamo utilizzando ecco prima domanda che vi faccio considerando appunto tutto questo quella che è la nostra impronta ecologica eccetera eccetera secondo voi poi magari qualcuno di voi sa anche già questo dato quindi risponderete sicuramente bene alla domanda però la domanda che adesso vi faccio che adesso vedrete comparire sul vostro schermo è questa appunto secondo voi considerando una media mondiale quante quante sono le terre che stiamo utilizzando ovviamente come vedete vi ho messo sempre dei casi in cui è più di una sappiamo benissimo che stiamo utilizzando più risorse rispetto a quelle che sono a nostra disposizione quindi secondo voi nella media mondiale stiamo utilizzando 1,7 1,9 2,3 2,7 chi di voi ha collegato con l'intera classe fate un breve una breve votazione su quella che secondo voi è la risposta corretta e provate a rispondere dare una risposta diciamo univoca per la classe ripeto appunto si tratta della media mondiale poi dopo vedremo i casi specifici di ogni singola nazione allora vi lascio ancora diciamo 10 secondi per rispondere più o meno la metà di voi hanno risposto quindi chi è ancora indeciso provi a rispondere per adesso la maggior parte di voi si sta assestando sul 2,3 mentre ci sono anche 1,9 è una risposta abbastanza scelta molto meno le altre due ok vi lascio ancora appunto gli ultimi 5 secondi per votare chi ancora non è arrivato a votare ok allora chiudiamo il sondaggio e vi faccio vedere come avete risposto questi sono i risultati che che avete detto la maggior parte di voi il 66% ha detto che secondo voi stiamo utilizzando 2,3 pianeti terra diciamo in senso figurato solo un 10% ha detto 2,7 un 17% quindi un'altra buona fetta di voi 1,9 solo il 7% ha detto 1,7 e solo il 7% di voi ha effettivamente indovinato perché la risposta corretta era 1,7 è la media mondiale ovviamente come dicevo è la media mondiale questi sono gli ultimi dati disponibili che ho trovato quindi si riferiscono al 2017 può essere che effettivamente negli ultimi 2-3 anni questo valore sia aumentato se però appunto andiamo a considerare andiamo a vedere quello che è il dato per ciascun paese notiamo dei risultati molto diversi in alcuni casi ovviamente per avere una media mondiale di 1,7 se c'è chi come Australia o Stati Uniti questi sono medie pro capite quindi se ogni australiano se tutto il mondo se tutti gli uomini vivessero come per esempio un medio australiano staremo utilizzando 5,2 pianeti terra in questo in questo momento Stati Uniti 5 quindi come vi dicevo appunto è la media pro capite quindi non quanto tutta la nazione sta inquinando questo è un concetto leggermente diverso che dopo vedremo quindi qui parliamo di pro capite quindi come le anche appunto come è anche il titolo di questo webinar come le nostre scelte quotidiane e poi abbiamo la Corea del Sud la Russia la Germania la Svizzera che è intorno al 3% la Francia 3% l'Italia è circa 2,6 non per cento 2,6 pianeti terra quindi noi diciamo che non siamo sicuramente i peggiori al mondo c'è chi inquina molto più di noi appunto come stile di vita perché qui si parla di appunto media per persona diciamo così ma ovviamente se tutti quanti vivessero come vive viviamo noi come vive un italiano medio ovviamente avremmo bisogno di due pianeti e mezzo per assicurare a tutti il necessario senza appunto andare a intaccare quelle che sono le risorse la Cina come vedete ogni cinese vive con 2,1 quindi i cinesi sono più bravi di noi da questo punto di vista per quanto ovviamente vanno moltiplicati per gli abitanti e quindi la Cina a livello complessivo come paese al momento che ha un miliardo e mezzo forse anche di più di abitanti adesso non ricordo il dato esatto ma sicuramente è il paese più popoloso del mondo ovviamente come nazione ha un impatto totale su quelle che sono le emissioni per esempio anche di energia di carbonica ovviamente più alto degli altri paesi ma appunto non è tanto dato dal quanto inquina ogni singolo cinese ma dal fatto che sono molti e quindi il totale complessivo è molto più alto di tutti a questo punto facciamo un ulteriore passo avanti e parliamo di overshoot day cioè appunto abbiamo detto che ognuno di noi stiamo utilizzando più di un pianeta terra sostanzialmente quindi diciamo che per riportare questo anche a un dato comunque a un termine di paragone un po' più familiare con cui possiamo avere un po' più di familiarità è stato introdotto questo concetto appunto dell'overshoot day cioè il giorno dell'anno in cui di fatto abbiamo finito di utilizzare le risorse che per quell'anno lì la terra ci avrebbe messo a disposizione il che vuol dire che da lì in avanti stiamo andando appunto a intaccare quel capitale di cui abbiamo parlato prima questa è una mappatura un po' degli overshoot day di tutti i paesi di molti paesi del mondo e ovviamente il concetto è che più risorse utilizzo prima arriva l'overshoot day quindi i paesi in cui arriva prima di tutti l'overshoot day vuol dire che sono quelli che inquinano diciamo di più e questo è l'overshoot day calcolato per il 2021 quindi anche rispetto a quello che abbiamo visto prima ci sono dei paesi effettivamente che prima non comparivano ma che probabilmente utilizzano molte più risorse pro capite rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente per esempio se tutti vivessero come gli Stati Uniti d'America il Kuwait e il Canada l'overshoot day arriverebbe il 14 marzo quindi pensate dopo due mesi e mezzo per utilizzare quelle che sono le risorse che la terra ci mette in disposizione in un anno intero la Germania Francia e Giappone sono intorno al 5 6 maggio l'Italia il 13 di maggio quindi noi sappiamo che se noi fossimo appunto se fossimo limitati ad utilizzare solamente le risorse che la terra ci mette a disposizione per quell'anno lì noi dal 13 maggio in avanti non potremmo più utilizzare niente quindi questo ci fa un po' capire che stiamo appunto utilizzando troppo rispetto a quello che la terra ci mette a disposizione altri paesi del mondo per esempio il Brasile è questa data è molto più avanti quindi per esempio il 27 luglio fino a alcuni stati alcune nazioni per esempio Cuba o per esempio anche l'Indonesia che si è a novembre barra dicembre quindi scusate qui sono tornato indietro invece di andare avanti ok se guardiamo a una mappa diciamo invece leggermente diversa che è appunto il deficit di cui parlavamo prima quindi l'impronta ecologica sommata alla biocapacità questa è più o meno la mappa che che ne risulta come dicevamo come dicevo prima appunto ci sono diversi dati da considerare il uno è la popolosità del paese l'altro in questo caso qui perché in questa infografica è sommata anche quella è la biocapacità di un determinato territorio quindi anche quante risorse quell'ecosistema riesce a rigenerare ogni anno per questo vediamo che l'Australia che prima avevamo visto è tra i paesi che utilizzano più risorse però nonostante questo in realtà gli australiani sono pochi perché hanno una popolazione che è più inferiore anche a quella per esempio dell'Italia ma hanno a disposizione un paese molto più grande con un ecosistema che è capace di generare più risorse quindi diciamo che se nel mondo fosse solo l'Australia in realtà per quanto riguarda appunto questa somma di impronta con biocapacità sarebbe in positivo ovviamente in questi casi qui noi sappiamo che non vanno fatti i calcoli per singolo paese ma bisogna sempre considerare la media mondiale perché siamo in un mondo sempre più globale e ovviamente non possiamo pensare che le scelte e gli stili di vita di un paese non influenzino quello che sono tutti gli altri è comunque abbastanza interessante notare anche questa cosa che come vedete la fascia del tropico quindi anche che prende il Nord Africa e il Medio Oriente è una fascia che è generalmente rossa sia perché appunto c'è anche sicuramente una parte di appunto di impatto ambientale però consideriamo che appunto alcuni paesi hanno effettivamente anche poca capacità poca biocapacità alcuni paesi molto desertici per esempio hanno anche poche capacità di rigenerare queste risorse economiche per cui nel loro conto diciamo questo sbilanciamento ovviamente risulta in maniera più più esaltante ecco diciamo così a questo punto ci verrebbe da dire ok ma quindi io proprio io per esempio io Gabriele quanto quant'è la mia impronta ecologica ecco io vi suggerisco di fare dopo o comunque quando avrete tempo a casa o se volete farlo in classe ognuno con il suo smartphone di andare su questo su questo sito che vi indico che si chiama footprint calculator in cui praticamente potete calcolare la la vostra impronta ecologica non mi ricordo se ho sì ecco ho il video di quando ho fatto io il calcolo che vi condivido ecco cosa vi chiede sostanzialmente è un calcolatore ovviamente si tratta di stime però vi chiede per esempio qual è la vostra dieta quindi quanto quanta carne mangiate quanta verdura mangiate quanto di questo è diciamo a livello scusate sta andando un po' troppo veloce torno indietro quanto è prodotto a livello locale quanto invece ha del trasporto non so se avete visto ma c'è stata anche la scelta della casa quindi in che tipo di casa vivi in un condominio in una casa isolata se è di mattoni o di legno mi sono accorto che il microfono era disattivato vi dicevo avete visto i vari i vari passaggi che chi chiede questo calcolatore a partire dalla dieta dagli abitudini di consumo dell'elettricità quanta elettricità viene consumata quanti chilometri vengono percorsi con i mezzi con le automobili quanti con i mezzi pubblici i viaggi in aereo ovviamente nell'ultimo anno sono sicuramente calati però ovviamente il traffico aereo è sicuramente uno degli aspetti più inquinanti diciamo che inquina di più ecco il risultato che ho ottenuto è questo io in realtà mi ritengo uno abbastanza attento anche nelle sue abitudini di consumo e per quanto io mi impegni comunque il mio risultato era anche se anche se diciamo inferiore alla media italiana diciamo così però comunque 2,4 pianeti terra questo perché ovviamente non va considerato sicuramente sono importanti le scelte di vita quotidiana ma anche il fatto semplicemente di vivere in un paese rispetto a un altro determina anche dei consumi diciamo sistemici che non non si possono assorbire diciamo dal singolo comportamento in questo caso appunto è importante e dopo lo vedremo in che modo possiamo diciamo influenzare anche quelle che sono le scelte le scelte politiche per esempio di di che possiamo portare mi chiedo un attimo una pausa che mi chiedo un attimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le nostre abitudini di consumo possono sicuramente influenzare questo in particolar modo per esempio il modo in cui consumiamo quindi anche per esempio la scelta che facciamo nella nostra dieta quindi se decidiamo di acquistare prodotti locali prodotti freschi oppure trasformati questo sicuramente influenza perché il cibo influisce sull'impronta ecologica umana per circa un quarto circa il 25-26%. Quindi anche fare attenzione a quali prodotti acquistiamo, in che modo sono coltivati, se hanno fatto molta strada per arrivare a dove siamo noi, se questa strada che hanno fatto l'hanno dovuta per esempio fare mantenendo una catena del fresco, quindi che è ovviamente un trasporto che ha più impatto e in generale anche quello che è proprio l'impatto della coltivazione e della produzione di quel cibo in particolare. Ovviamente un cibo che è trasformato passa anche attraverso processi industriali, quindi ha probabilmente un'impronta più alta rispetto a un cibo fresco appena raccolto oppure appena coltivato. E quindi diciamo che tutte queste scelte hanno un'impronta che già potrebbe in qualche modo andare a ridurre quello che è il nostro impatto sull'ambiente. Oltre a questo, ovviamente, andrebbe considerato che oltre all'impatto proprio della coltivazione, anche quanto ne sprechiamo di cibo. E quindi in questo senso è fondamentale ridurre anche quello che è lo spreco alimentare, perché come vedete qui viene ridotto di circa il 16% anche solo limitando quelli che sono gli sprechi alimentari. Nel 2015 sono stati, diciamo, impostati questi, come sapete, probabilmente avrete sentito parlare degli obiettivi di sviluppo sostenibile e che sono degli obiettivi che le nazioni si sono date per ridurre, diciamo, quelli che sono gli impatti ambientali e quindi andare un po' a limitare quelli che sono le influenze negative che abbiamo sul nostro ecosistema. Questi sono stati quindi considerati, sono stati declinati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per andare un po' a, appunto, anche, ovviamente, come vi dicevo prima, la sostenibilità non è solo ambientale ma è anche sociale e economica, quindi vedrete alcuni di questi obiettivi che vanno, si indirizzano a queste problematiche di questo tipo qui. E appunto questi sono gli obiettivi che la comunità internazionale si è data perché, appunto, ovviamente è chiaro a questo punto che il modo in cui viviamo non è alla lunga sostenibile, quindi sicuramente bisogna trovare un nuovo modello, un nuovo paradigma di sviluppo che possa garantire, ovviamente, a tutti il necessario per vivere e, ovviamente, anche inaltare il livello della qualità della vita per quanto possibile, ma anche, ovviamente, ridurre quello che è l'impatto ambientale per, appunto, salvaguardare anche l'ambiente. In questo il ruolo dell'agricoltura è importante perché, come abbiamo visto prima, innanzitutto il 26% dell'impatto ambientale deriva dalla dieta, dalla scelta anche del consumo alimentare e, ovviamente, ogni volta che noi mangiamo stiamo consumando delle risorse che qualcuno ha coltivato. Quindi l'agricoltura è fondamentale da questo punto di vista qui, sia per questo motivo, ma anche perché in alcuni paesi, in alcune aree del mondo, l'agricoltura è ancora oggi il principale settore economico, quindi l'agricoltura ha anche un impatto su quella che è la, appunto, la sostenibilità economica di cui abbiamo accennato precedentemente. Inoltre, l'agricoltura è una delle poche attività economiche, diciamo così, che ha anche la capacità di assorbire l'anidride carbonica, quindi di avere un impatto positivo anche dal punto di vista proprio del bilancio del carbonio. Quindi non solo, mentre la maggior parte degli altri settori economici può, diciamo solamente, e già sarebbe ottima cosa, può solamente ridurre il proprio consumo e le proprie emissioni, l'agricoltura è uno di quei settori economici che, oltre a ridurre le proprie emissioni, può anche aumentare la propria capacità di sequestrare l'anidride carbonica dall'atmosfera e quindi avere, appunto, un bilancio positivo. Ci sono alcuni studi che hanno dimostrato, per esempio, oggi si parla molto, e ne parleremo nel prossimo webinar in particolare, di agricoltura di precisione, nuove tecnologie in agricoltura. Ecco, l'adozione di queste tecnologie può andare a ridurre l'utilizzo anche di prodotti di sintesi che hanno un loro impatto, diciamo, anche dal punto di vista della produzione, un loro impatto ambientale, quindi già una riduzione, e di conseguenza queste potrebbero anche aumentare, oltre a ridurre anche l'utilizzo di questi prodotti, quindi anche un beneficio dal punto di vista ambientale, ma anche un beneficio economico per chi adotta queste tecnologie, perché permette di migliorare anche la redditività del sistema. C'è anche addirittura, c'è stato uno studio della Michigan State University che ha calcolato che l'utilizzo dei dati e delle tecnologie di agricoltura 4.0 può portare a una riduzione, anche qui appunto calcolata in CO2 equivalenti, quindi in emissioni di CO2, una riduzione di circa 890 kg di CO2 emessa per ogni ettaro, appunto semplicemente adottando queste tecnologie. E a questo punto io vi chiedo, secondo voi, quanti, no scusate, quanti, per darci un'idea di che cos'è questa unità di misura, quindi il 890 kg, quanto sono 890 kg di CO2? Ecco, immaginiamo di metterci alla guida di una macchina ed iniziare a percorrere, a guidare, fino a che non abbiamo emesso 890 km di CO2. Secondo voi, quanti chilometri abbiamo percorso prima di arrivare a aver emesso 890 kg di CO2? Quindi qui vedete ci sono diverse opzioni e vedete quelle che sono le diverse opzioni, meno di 4.000, circa 4.500, circa 5.500 o più di 6.000 km, secondo voi. Vi lascio circa 30 secondi per rispondere e poi dopo vediamo insieme i risultati, parlateli in classe e vediamo un po' quello che è il risultato. Grazie. 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 altri circa 5.500, solo il 14% più di 6.000 km e la percentuale è ancora più bassa, meno di 4.000 km. La risposta esatta è invece proprio più di 6.000 km. Sono circa 6.300 km, quindi è come guidare circa da New York fino a Seattle, passando per Los Angeles, per emettere 890 kg di CO2. Quindi capite che è tanto, quindi in questo senso qui la capacità anche di ridurre le emissioni di CO2 utilizzando tecnologie per l'agricoltura di precisione ha un'influenza molto importante. Se vogliamo utilizzare un altro termine di paragone è per esempio andare da Gibraltar a Caponord appunto in macchina. Ok, allora l'ultimo punto, ma andremo molto velocemente su questo perché siamo già arrivati al termine appunto della nostra ora, è il Green Deal europeo. L'Europa ci ha dato alcuni obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030 e di anche neutralità climatica entro il 2050 e questo obiettivo diciamo sarà oltre a essere ovviamente anche fortemente voluto dalla popolazione, anche dalla maggior parte della popolazione vorrà andare a sviluppare appunto quello che abbiamo visto prima, anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi un paradigma, un sistema di sviluppo più sostenibile. Questo passerà anche attraverso la strategia legata appunto a quella che è la produzione agricola e anche al consumo appunto agricolo e in questo appunto all'interno di questa strategia è previsto che ci sia un'importanza diciamo anche da quella che è il punto di vista del consumatore, cioè il consumatore più è consapevole degli impatti di quelle che sono le sue scelte alimentari più sarà portato probabilmente a fare delle scelte di consumo sostenibili diciamo da questo punto di vista, quindi andare anche in questo senso qui, come abbiamo visto prima le nostre scelte hanno un impatto ma anche il modo in cui scegliamo di consumare, quindi quali beni acquistiamo ha anche un ulteriore impatto che è quello di indirizzare il mercato verso una certa tipologia di prodotti, verso una certa tipologia anche di paradigmi di produzione che siano più sostenibili. Quindi oltre a questo appunto c'è la nostra scelta anche diciamo politica nel momento in cui saremo chiamati anche a votare quando anche voi studenti andrete a votare sicuramente se la vostra scelta ricadrà su chi mette in primo luogo o in primo piano quelle che sono anche le scelte di sostenibilità ecologica, ecco che la nostra voce in qualche modo per quanto ci sembra sempre di essere piccoli di fronte a questi problemi, di non poter fare molto, in realtà un po' si può fare, qualcosa si può fare, partendo da queste piccole cose possiamo cercare appunto di modificare appunto quello che è il nostro impatto, innanzitutto cercare di ridurlo il più possibile il nostro impatto diciamo personale, poi dopo anche parlandone, andando a condividere queste idee, andando a condividere quelle che sono le nostre conoscenze, si può cercare anche di invertire la rotta e andare a avere un'impronta che è diversa decidere quale impronta vogliamo lasciare sul nostro sul nostro pianeta. Siamo arrivati appunto alla fine, guardo se ci sono alcune domande. Ok. Ok, qualcuno mi dice che c'è stato qualche problema nella condivisione dei video. Vedremo appunto di risolvere se ci sono anche per le prossime volte, però per il resto direi che non ci sono domande. Quindi visto che appunto l'ora è a nostra disposizione, è già finita, abbiamo anche sforato di 5 minuti. Io vi ricordo semplicemente il prossimo appuntamento che è il 17 febbraio con il prossimo webinar sull'agricoltura 4.0, questo viaggio diciamo alle ricerche della sostenibilità e per qualsiasi altra cosa potete rivolgervi appunto a me, per qualsiasi domanda di qualsiasi tipo. Vi ricordo come ultima cosa, quando terminerà il webinar c'è un piccolo sondaggio di gradimento di questo webinar e per i professori che sono collegati in classe con gli studenti, la richiesta di dirci quanti, e ci sarà la domanda che vi comparirà, quanti studenti erano con voi in classe appunto per avere un numero complessivo di partecipanti a questo webinar. Tutto questo io vi ringrazio di essere stati con noi, spero che siano stati argomenti interessanti, a breve sarà disponibile sia la registrazione del webinar che le slide sul nostro, sul sito partecipac.eu e anche sul sito agrinnovationaid.it, in ogni caso potete appunto chiedere a me se non trovate questi contenuti. Quindi non mi rimane che ringraziarvi appunto come dicevo e salutarvi al prossimo appuntamento. A presto!